Lo slogan potrebbe essere l'Abruzzo ha una marcia in più, pedalala. Turismo attivo in una regione sostenibile non è una contraddizione in termini ma un binomio possibile. Fare attività turistica mantenendo inalterato l'ambiente si può e si deve. Per questo la regione Abruzzo ha deciso di presentarsi alla BIT di Milano pedalando. Le proposte sono tante, dalle pedalate più sportive e muscolari a quelle più assistite con contemplazione panoramica quasi in surplus. Ingredienti necessari, una rete di hotel bike friendly e percorsi per tutti, culturali, verdi, enogastronomici, artistici, religiosi, con particolare attenzione alla settimana santa. Abbiamo lavorato insieme alla CEI con questo protocollo che abbiamo fatto dall'inizio per il turismo religioso. Andiamo a presentare un pacchetto sulla Pasqua dove abbiamo messo a sistema, abbiamo messo a rete, oltre gli operatori, i comuni, anche le confraternite. Quindi ci presentiamo con questa novità e poi abbiamo lavorato in continuità con chi aveva già indirizzato il lavoro sul ciclo turismo. Su questo l'Abruzzo scommette. D'altronde sulle bike mi sembra che ci sia particolare attenzione dei turisti, dei turisti soprattutto che vengono in Abruzzo dall'estero e quindi non potevamo farci trovare impreparati. Questa collaborazione anche con Lega Ambiente va proprio in questa direzione? Eh sì, con Lega Ambiente si è portato avanti un protocollo iniziato tre anni fa su cui siamo entrati proprio nei disciplinari. Peraltro è un protocollo tipo che verrà ripreso anche a livello nazionale. Lo presentiamo ufficialmente per la prima volta alla Bittimilano dove faremo anche due conferenze stampa importanti con gli interventi di giornalisti nazionali e di testate nazionali. Quest'anno ci si è messa l'autostrada con i problemi di Silvi. Riusciremo ad affrancarci di quest'ultimo problema per l'estate 2020. Stiamo andando ragionando su un'attività di promozione per cancellare quel messaggio negativo che purtroppo c'è stato con quei 40 giorni di interruzione. Chiaramente ha viaggiato su internet, sui media e quindi chiaramente qualche già disdetta è arrivata. Dobbiamo cercare di far capire che oramai l'Abruzzo è pronto a ricevere i turisti soprattutto in quel territorio. Grazie. Grazie.